Rosolino, buongiorno! Finalmente ragazzi, sono tornato, sono tornato! Da quanto tempo mancavi al Gaeta? Tantissimo, tantissimo, però meraviglioso, meraviglioso. Io venivo al Gaeta da piccolino e poi un po' più da grande. E che fai oggi? Oggi ragazzi, per fortuna, si parla di sicurezza. Ascoltando, non so se il capitano general, l'ammiraglio, eccetera, eccetera, ho capito che insomma veramente il nostro paese ha una responsabilità pazzesca su questi tre paesi, insomma, fa lavoro a meno di un quarto di questi. Quindi è un territorio che notte, giorno e 12 mesi l'anno combatte la sicurezza in mare. Noi la vediamo oggi, principalmente la sicurezza che ci interessa molto nella stagione estiva, perciò quella legata ai nostri bambini, alle persone che insomma vogliono divertirsi e non vivere con l'anzi. Perciò ci saranno dalle esibizioni, dall'albero, dal mare in mano, alle moto d'acqua, ai bagnini e di sicuro cercheranno di trasmetterci la sicurezza e la professionalità che c'è dietro questa formazione. Ti piaciuto? Sì, mi potete rimanere pure lui? Ma io il costume l'ho portato, non so dove è finito, ma come un albero mi butto anche il vestito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.